parto sempre con bagagli minimi e cerco di arrivare nei luoghi dove trovo poi il rasoio però caccatullo la mia collaboratrice roberta aveva una piccola borsetta in questa borsetta c'era questo e la schiuma da barba la barba da barba la schiuma da barba sono andato un po' avanti avendo fatto regolare code tranquillo l'hanno presa quelli del controllo ladri ladri ri la rubata hanno rotto i coglioni io voglio andare in un tribunale e dire perché e sarà la quarta volta catullo 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 la schiuma da barba per un pericolo per un pericolo chi ha fatto queste regole disse sono andate questo chiaro STEM COM TRAGLA 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 T traduzione TRAGLA TRAGLA TRAGLA